Ricchi i migranti arrivano su vecchio yacht di lusso. Grave incidente sul lavoro a Ispica, ferito un 26enne. La Guardia di Finanza sequestra 350 articoli in megastore cinese. Nuovi bandi per il rilancio delle imprese ittiche in Sicilia. Ben trovati con l'informazione di Canale 74. Ricchi i migranti arrivano su un vecchio yacht di lusso, traditi da selfie e da un guasto in mare. Sentiamo. Non la solita carretta del mare dove si viaggia stipati, affamati, assetati e si rischia la vita, ma uno yacht di lusso vero e proprio per trasportare ricchi i migranti, che possono permettersi di pagare anche 8.500 euro a passeggero, nel tentativo di passare come turisti. E' una delle nuove tecniche di trafficanti scoperta dalla squadra mobile di Ragusa, che ha fermato tre scafisti sieriani. Erano alla guida di un natante di lusso che si è bloccato in mare per un'avaria al motore, con a bordo 98 extracomunitari, tutti di origine palestinese e siriana, compresi 23 bambini forniti di salvagente. I migranti sono stati soccorsi da un mercantile, poi sono sbarcati a Pozzallo. Ad incastrare uno dei presunti scafisti sarebbe stata le mani sporche di grasso meccanico, solitamente utilizzato nei motori marini. L'uomo avrebbe raccontato ai poliziotti di aver dato una mano a svuotare la stiva piena di acqua perché stavano affondando. Ma è stato invece grazie ad un selfie e qualche foto scattata dai giovani passeggeri che gli inquirenti hanno scoperto che stavolta non si trattava di una carretta del mare, ma di uno yacht di grandi dimensioni. Solo dopo ore di interrogatorio alcuni migranti, con la promessa di non dover incontrare in alcun modo l'equipaggio per paura delle minacce ricevute, hanno raccontato cos'era accaduto. Se pagate tanto avrete ogni comfort su uno yacht, questa è la rassicurazione, così era stato avaria a parte. Un viaggio che all'organizzazione avrebbe fruttato circa 800 mila euro. C'è chi, come un meccanico siriano, ha speso tutti i risparmi di una vita perché voleva che la sua famiglia arrivasse sana e salva a destinazione. Solo l'esperienza degli investigatori di Ragusa ha permesso di sottoporre a fermo i tre scafisti, che a giorni saranno poi interrogati dai magistrati. E' un grave incidente sul lavoro a Ispica, vittima un operaio di 26 anni, trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Un giovane operaio di Ispica è stato trasportato in elisoccorso d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania, in gravi condizioni a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne di contrada a Miuccia a Ispica. L'uomo ha riportato lesioni e fratture multiple agli arti inferiori, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stava lavorando la terra con un motocoltivatore. L'incidente sarebbe avvenuto alle 14 e pare che il giovane sia stato travolto dalla macchina agricola, rimanendo gravemente ferito alle gambe dopo essere inciampato, mentre fresava un appezzamento di terreno con il motocoltivatore. Sono stati subito chiamati soccorsi, intervenute tempestivamente sul posto anche due ambulanze del 118, un mezzo ispicese, quello medicalizzato da Pachino, per prestare il primo e determinante soccorso. Appurate le gravi condizioni di salute del giovane, il personale del 118 ha poi chiesto l'ausilio di un elisoccorso che ha atterrato sul luogo dell'incidente per prelevare l'uomo. Nel frattempo sono arrivati sul posto un'unità dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Ispica per le indagini. E ancora a cronaca, a Vittoria, la Guardia di Finanza sequestra 350 articoli in un megastore cinese. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ragusa circa 353 articoli dal valore di circa 5.000 euro. L'attività info-investigativa dei militari si è conclusa all'interno di un megastore gestito nel Vittoriese da un cittadino di etnia cinese. Gli accertamenti svolti hanno permesso di verificare che gli articoli destinati alla vendita, tutti importati dalla Cina, non erano stati sottoposti ai previsti controlli di sicurezza. In alcuni casi la marcatura CE era stata riportata illegalmente, mentre in altri mancava del tutto. La gamma dei prodotti incriminati risulta molto ampia dai dispositivi elettrici ed elettronici agli articoli medici, passando per giocattoli e bigiotteria. Oltre al contestuale sequestro dei prodotti, la titolare dell'azienda è stata denunciata alla locale procura della Repubblica per la violazione delle norme in materia di contraffazione e sicurezza per i prodotti, nonché per i reati di ricettazione e di frode in commercio. E in merito alla conferenza dei sindaci sulla rete ospedaliera, tutti si dicono soddisfatti dell'esaustivo incontro. Verificare la corrispondenza tra il progetto di riordino della rete ospedaliera territoriale il che il governo regionale vuole attuare è la congruità delle risorse economiche che saranno assegnate, considerato che la regione siciliana ha già annunciato un taglio del 2% delle spese relative al personale. E' questo l'intento comune condiviso stamani dai partecipanti alla conferenza dei sindaci, convocata dal presidente Federico Piccitto per conoscere in programma dell'azienda sanitaria in ordine al possibile depotenziamento degli ospedali Iblei. All'incontro era presente il direttore generale dell'Asp 7 Maurizio Arrico, che ha condiviso le perplessità esposte dai sindaci in relazione alla scarsa chiarezza delle linee programmatiche contenute nel decreto del 14 gennaio 2015 riguardante la riqualificazione ed il riordino della rete ospedaliera territoriale della regione Sicilia. Dai vari interventi è emersa unanime la necessità di capire quale percorso vuole intraprendere la regione siciliana anche alla luce della riforma Balduzzi, i cui criteri sono finalizzati a razionalizzare entro il 2016 la spesa sanitaria tramite inevitabili taglie ed accorpamenti delle strutture ospedaliere. Il dialogo con i sindaci è stato molto utile, molto positivo. Ho espresso ai sindaci la mia difficoltà in questo momento perché la rete del riordino regionale, così come è stato espresso dall'assessorato, induce diverse modifiche all'assetto attuale. Queste modifiche sono onerose, potrebbero portare dei miglioramenti all'assistenza, ma ci vogliono delle risorse molto chiare per fare questo. Io ho in questo momento un testo di legge da applicare, ma purtroppo non ho le risorse per farlo. Ho chiesto qualche minuto fa per telefono all'assessore per favore di autorizzarci ad avviare i concorsi il più in fretta possibile, ma nel frattempo dobbiamo dare risposte a chi ha bisogno di noi. Non proprio invece è soddisfatto dell'incontro il sindaco di Comiso, Filippo Spataro, che continua lo sciopero della fame e della sete, iniziato ieri in difesa dell'ospedale cittadino. Il piano di riassetto della rete ospedaliera in territorio embleo è stato oggetto di una conferenza dei sindaci a Ragusa, non condivisa da primo cittadino di Comiso, Filippo Spataro. Quest'ultimo, di fatti, mentre gli altri colleghi sedevano attorno a un tavolo, ha deciso di iniziare lo sciopero della fame e della sete ad oltranza, finché non riceverà risposte concrete. Da ieri il sindaco Spataro si è accampato in una tenda vicino all'ospedale Regina Margherita, dove ha cominciato lo sciopero. Motivo dell'eclatante protesta, cercare di salvare il presidio ospedaliero Casme Neo. Lo stesso Spataro ha di fatti avuto conferma in tarda mattinata con un'email dell'ASP7 che il manager Maurizio Ricò, presente all'incontro con i sindaci, non può garantire il non smantellamento della Regina Margherita, nell'ottica di una riorganizzazione regionale ospedaliera che prevederebbe Comiso come centro riabilitativo polifunzionale, nell'ottico di un potenziamento del Guzzardi. Spataro chiede di fatto la revoca immediata della delibera e contestualmente la nuova unità medica. Intanto, in merito alla clamorosa iniziativa del sindaco Spataro, l'azienda ospedaliera di Ragusa interviene con una nota. La direzione aziendale, si legge testualmente, esprime sorprese e perplessità in quanto in data 17 aprile 2015 aveva già comunicato al sindaco l'intenzione di non procedere per il momento all'esecutività della delibera che prevede una riorganizzazione dell'attività chirurgica a Regina Margherita. Pertanto, allo stato attuale, nulla è stato modificato nel territorio di chirurgia dell'ospedale Casmeneo, così da giustificare una manifestazione tanto clamorosa di protesta contro i vertici aziendali dell'ASP 7. E a Modica un convegno su come uscire dai debiti organizzato dal Lions Club. Senza più debiti, come uscire dal sovraindebitamento? È il tema del convegno svoltosi sabato pomeriggio all'auditorium Pietro Floridia in piazza Matteotti. All'evento, organizzato dal Lions Club di Modica, hanno aderito l'Unione Giovani Dottori Commercialisti, l'Ordine degli Avvocati di Ragusa e l'Associazione Giovani Avvocati. Ospite di eccezione è Roberto Centaro, magistrato già senatore della Repubblica, autore della legge 3 del 2012 sul sovraindebitamento che consente di intervenire sulle criticità debitorie dei consumatori e delle piccole imprese. La legge si rivolge al cittadino, alla famiglia per evitarne proprio il fallimento, al piccolo imprenditore, all'artigiano che non è sottoposto a procedure concorsuali ma può essere sottoposto a procedure di esecuzione forzata e quindi perdere anche quegli attrezzi del mestiere che gli consentirebbero di proseguire l'attività ma anche di sfamare la propria famiglia. Con la legge Centaro lo Stato interviene con misura a sostegno dei consumatori, dei piccoli imprenditori, delle imprese agricole, realizzando per la prima volta in Italia una soluzione negoziata dalla crisi delle piccole imprese e dei consumatori in alternativa alle esecuzioni forzate per i beni mobili ed immobili. La maggioranza delle persone che sono indebitate, che stanno subendo esecuzioni sia mobiliari che immobiliari o che si trovano in uno stato di sovrendebitamento, che possono superare questa fase ricorrendo a questo strumento. Richiedere al Presidente del Tribunale a nome di un professionista che lo può assistere per redigere un piano che si porti ad un accordo con i creditori. E' sempre a Modica Francesco Frasca Polara, il nuovo Presidente del Consorzio degli Operatori Turistici di Modica. E' stato eletto ieri sera dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dai presenti sette consiglieri su nove e succede a Renato Nuccio che aveva dato le dimissioni dalla carica il 10 aprile scorso. E ora cambiamo argomento e ci spostiamo a Ragusa, successo di presenza al Palapadua per i campionati interregionali di ginnastica aerobica. E' stato registrato il tutto esaurito. Una grande festa dello sport, premiata da un numero di presenze importanti. La due giorni ospitata dal Palapadua di Via Zama a Ragusa si è rivelata un vero e proprio successo. La prima volta della città iblea nel campo della ginnastica aerobica ha dunque fatto registrare un entusiasmo coinvolgente destinato ad aprire le porte ad altri eventi di spessore. Questo l'esito dei campionati interregionali di ginnastica aerobica zona 2 che hanno contemplato la presenza di 25 società provenienti da diverse regioni d'Italia. Vare a dire, oltre dalla Sicilia, anche dalla Calabria, la Puglia, la Basilicata, la Campania, il Molise, le Marche, l'Abruzzo, l'Umbria, il Lazio e la Sardegna. Sul parchè del Palazzetto Ragusano, oltre 100 gli atleti e 200 le atlete che si sono date battaglia nelle varie categorie, dagli allievi alle senior, dalla junior hall a junior B. Ancora una volta dunque è stato premiato lo sforzo organizzativo del CONI provinciale di Ragusa, oltre che naturalmente dalla Federazione Ginnastica d'Italia, che con il supporto della Scuola Regionale di Sport della Sicilia e il sostegno logistico fornito dall'amministrazione comunale, ha potuto ospitare in piena efficienza non solo i partecipanti, ma anche i tecnici, i giudici, i genitori, i parenti e amici, per un indotto di oltre 400 persone, che nelle due giornate hanno affollato gli spalti del Palapadua. Sono stati approvati i bandi per il rilancio delle imprese ittiche in Sicilia. Sono stati approvati questa mattina i bandi a favore delle imprese ittico-conserviere dell'Acqua Cultura, con un contributo pubblico a fondo perduto pari a un massimo di 250 mila euro a progetto. Sarà data la possibilità alle imprese di completare alcune attività progettuali, come l'acquisto di attrezzature e macchinari per l'ammodernamento e l'innovazione degli impianti di produzione e trasformazione del pescato siciliano. I bandi saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana giovedì 30 aprile e avranno scadenza il 30 maggio e saranno reperibili anche sul sito del Dipartimento regionale della pesca mediterranea alla voce FEPP, Fondo Europeo per la Pesca. La messa a bando di queste somme rientra tra le attività che il Dipartimento sta ponendo in essere per il rilancio del settore, afferma Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento, a partire dall'istituzione degli uffici periferici dislocati nelle più importanti marinerie siciliane. Vogliamo raccogliere i bisogni del comparto al fine di utilizzare il programma operativo FEAMP 2014-2020 come vero strumento di rilancio della piccola pesca costiera artigianale, dei COGEPA e dei gruppi di azione costiera IGAC. Bene, con questo è tutto. Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordo che stasera alle 21 andrà in onda la nostra rubrica Ommia. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie per l'attenzione e arrivederci.